Buongiorno, buongiorno amiglia. Allora, mi ero dimenticato dell'esistenza del Milan, che commenteremo assieme al Bruni domani pomeriggio, quindi non posso e non potevo usare lo slot di domani pomeriggio per parlare della lotta Scudetto e della Juve, quindi per non ritardare troppo commento la partita della Juve di oggi, stasera commenterò l'Inter e domani il programma è il seguente. Domani mattina, il giorno dopo sulla Fiorentina, al pomeriggio angolo del Kachavit col Bruni sul Milan e la sera pro accesso al campionato. Quindi commento la Juve e lo faccio con un titolo e un aspetto contraddittorio. Lo faccio dopo una vittoria netta, insomma, credo sia stata una delle migliori Juve viste in campionato, con un Cagliari piuttosto assente, però lo voglio fare perché il succo secondo me è quello. Io non capisco come non ci si renda conto, da anni ormai, che il problema del calciomercato della Juve è il centrocampo. Io sono d'accordo con gli interisti, sento diversi video anche quando dicono ma perché non buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e non consegniamo un Vidal a Conte? Io sono completamente d'accordo con loro, sarebbe il momento di farlo, sarebbe anche meritato. Ma lo stesso dovrebbero dire, e lo fanno giustamente, i tifosi della Juve. Cioè io l'acquisto di Kuluseski lo posso anche capire, ma da che punto di vista lo capisco? Lo capisco dal punto di vista del fatto che hai strappato un giovane talento a una concorrente diretta che magari era sul giocatore, al fatto che comunque sembra essere un buon prospetto, ma non era e non è l'urgenza secondo me quella. Cioè se ero io, al posto di spendere quanti sono? 35-40 milioni, quel che è, su un Kuluseski, ma me li tenevo da parte e mi prendevo un centrocampo, un Rakitic. Ma date un Rakitic a Sarri. Ma l'avete visto il centrocampo della Juve? Adesso vorrei sapere dove sono gli entusiasti di Ramsey. Che vi ho detto l'anno scorso, guardate che alla Juve serve uno tra i migliori dieci centrocampisti del mondo. Scusate, uno tra i migliori cinque o sei. Ramsey non è tra questi, oltretutto è un trequartista, così come lo è Kuluseski che è trequartista esterno. Alla Juve serve un tuttocampista di rottura. Uno da mettere al posto di Matuidi, che secondo me non è da Juve, così come non lo è che dire. Se tu mi presenti un centrocampo con Pjanic, Betancur e al fianco uno di questi centrocampisti, ecco che la Juve l'hai rafforzata. Non hai bisogno dei Kuluseski, neanche dei De Ligt costosissimi. Ma date un caspita di centrocampista a Sarri. Che non è uno scemo. Non è il scemo di turno. Come non lo è Maran, che qualche mese fa sembrava il genio del calcio. Ci vuole gradualismo nelle cose. Spesso la fortuna degli allenatori, o anche in gran parte, è dovuta alla squadra che hanno sotto mano e al momento della squadra che hanno sotto mano. E questa cosa qui riguarda anche Allegri. Perché come sapete, se mi seguite dall'anno scorso, io non sono un antiallegriano. Non ho mai attaccato Allegri. Non ho mai detto che era colpa di Allegri perché la Juve non sfondava in Champions. Certo, avrà fatto i suoi errori, ma come li fanno tutti. Ma con uno stile di centrocampo così. Non si può, ragazzi. E lo dico oggi, dopo una vittoria rotonda, dopo che tanti giocatori hanno fatto la loro, o anche Ronaldo, chissà che non possa succedere quello che vi disse inizio anno di un Ronaldo capocannoniere, chi lo sa. Ma per esempio, anche adesso, tutti manderanno in gloria Ronaldo. Ma lo dico dopo un 4-0. Ho sentito il video di, non mi ricordo chi era, di un tifoso della Juve che è stato anche attaccato perché ha detto io Ronaldo non l'avrei preso, avrei distribuito i soldi spesi per il suo acquisto nel rafforzare la mediana in maniera determinante e costruire una Juve più equilibrata. Ma io sono d'accordo con lui, eh. Io sono d'accordo con lui. Perché è un peccato vedere anche certe idee di gioco, un allenatore che te le può dare, un attacco del genere anche magari con Higuain e Dybala, ma anche una difesa penalizzati da un centrocampo che, ragazzi, la Lazio per me sulla carta ha un centrocampo più forte di quello della Juve. L'Inter non saprei, però già il fatto che ti schieri a tre significa che tu devi avere un centrocampo di fenomeni e secondo me la Juve non ce l'ha. E la priorità del mercato dovrebbe essere questa. Cioè, se io fossi juventino, ma batterei ferro tutti i giorni, ma a gennaio perché non puoi prendere un Rakitic? O un Vidal! Paradossalmente la Juve è andata a rompere le uova nel paniere, se così si può dire, se l'ha fatto veramente all'Inter per Kuluseski. Ma era meglio farlo su Vidal ai costi che ci sono. E non servono gli Eriksen, non servono i trequartisti, non servono gli esterni. Serve uno alla Pogba, che è difficilissimo da far arrivare per carità, ma allora uno alla Rakitic, uno alla Vidal. Un giocatore così serve perché è un peccato, se no è un peccato, capito? Per il resto la partita la Juve ha giocato bene, belle azioni in sua mano. Io vi ripeto, la mano di Sarri l'ho vista in questa Juve, ma la si vede progressivamente da inizio campionato. Non si può dire che Sarri non abbia messo la sua mano in questa Juve. Poi è un percorso difficile, perché ha ragione chi dice che la Juve avrebbe un'altra filosofia, che è quella magari del catenaccio all'italiana, tra virgolette. Non è facile dopo due settimane, ma neanche dopo due mesi, avere tutto. Ci sono allenatori che impiegano anni a far vedere la loro mano, penso a Klopp, penso anche a Guardiola per certi versi. Ma qualcosa si era visto, si vede. Ci saranno comunque altri, non dico passi falsi, però un percorso che ha degli ostacoli anche. Non è facile, non è per niente facile. Però come discutevamo anche con Beppe Bianconero, si vedeva già mesi fa una Juve che giocava più alta, che cercava il possesso palla, che oggi l'ha dimostrato. E che a livello di formazione, se questa Juve qua avesse un centrocampo di maggior palleggio, ma non solo, ma di maggior forza, con interpreti più forti, sarebbe più facile. E a gennaio, a qualche occasione, secondo me, potresti portarla a casa. Un Rakitic, fa schifo? Quanti anni ha Rakitic? Ve lo dico in diretta, vediamo. Rakitic, età. Ha 31 anni. Non è giovane, ma non è neanche vecchissimo. Non credo costi un botto. Perché non si può andare a gennaio su un giocatore del genere? Su un Vidal? Vidal farebbe schifo, non credo. E' anche uno che ti dà quella grinta, che spesso la Juve dopo 8 scudetti, che è anche normale, un po' gli manca. Alla Juve in campionato, da quel che vedo io, piace vincere in surplus. Cioè, abbina questa ricerca del gioco al fatto di dire, ma sì, prima o poi la sblocchiamo, ma sì, abbiamo la forza per imporci. A volte invece ti servirebbe uno di maggior cattiveria. E se hai gente come Ronaldo, che magari ce l'ha, Bonucci, Chiellini, che hanno quella statura, tra virgolette, in tutti i sensi, per volersi sempre imporre, tante altre gente magari ne ha meno. Lo stesso Dybala non è un cattivo. Iguain è un po' per le sue. Il centrocampo, Matuidi, non è un giocatore da Juve. Ramsey, secondo me, non è un giocatore da Juve. Rabiot? Rabiot io invece ci credo, penso che possa pian piano migliorare, ma comunque comprando Rabiot ti sei messo in casa. Non è che sei andato a prendere un giocatore, diciamo, sì, era ricercato, era sulla breccia, ma non è un Pogba, non ha il livello di prontezza di un Pogba, di un Rakitic. Questo, io lo dico dopo un 4-0, vi ripeto, avere un centrocampista di maggior impatto agevolerebbe anche molto il lavoro di Saro. Un Kanté, per esempio, ma Kanté e Pogba sono troppo costosi. Ma certo, se un'estate mi spendi 75 milioni per De Ligt, se a gennaio me li spendi già per Kuluseski, che, ripeto, non sto dicendo che sono scarsi, ma non sono prioritari, non sono, non erano, e non possono essere le priorità della Juve, perché la Juve ha altre priorità, che sono al centrocampo. Poi, il lavoro, secondo me, c'è, c'è, come si può dire, si vede una mano che cresce, si vede l'introiezione di certe idee di gioco. Mi aspettavo anche peggio, cioè, io, che sono, che mi piace Sarri, che è un allenatore che mi sta simpatico, mi aspettavo anche maggiori difficoltà, perché spesso i primi anni sono anche così. Io non amo ragionare sull'immediato che in un giorno Tizio è un idiota, il giorno dopo è un fenomeno, no. Do una certa gradualità. Le difficoltà erano preventivabili, sono preventivate, però, vi ripeto, e lo dico anche per Allegri, questa squadra qua va rafforzata a centrocampo. Ok? E non capisco la razio che sta avendo il mercato in tal senso. E permettetemi, Kuluseschi, non sto dicendo che sia scarso, ma è un acquisto che avrei evitato. Va bene? Stessa cosa di Ligt, ve lo dico da quest'estate. Stessa cosa di Ramsey, ve lo dico da quest'estate. Rabiot, no. Rabiot me lo porto fino, fino alla fine, come dite voi. Un caro saluto e iscrivetevi.